cari amici tanti saluti da Serafino Massoni stavo leggendo la messaggistica quando mi arriva un messaggio sorprendente dal blogger aranciarossa86 aranciarossa86 sentite un po' che cosa c'è scritto sentite un po' caro professore buongiorno le scrivo per chiederle un parere in data odierna non so qual 26 ottobre 2009 in data odierna nell'ora di religione mentre il nostro insegnante un sacerdote affermava più volte che il nostro dio fosse quello più buono gli ho posto la seguente domanda se il nostro dio è più buono allora perché ha creato l'inferno mentre quello ebraico no i sacerdoti si era imitato a dire che l'argomento non era attirente come giustifica questo comportamento aranciarossa86 questo è il messaggio questo blogger come fa a sapere queste cose il fatto è che io da qualche tempo ho cominciato a parlare dell'inferno perché in tanti video con parole gentili cortese mettevo in evidenza le limite contraddizioni della chiesa cattolica che si è discostata parecchio dal messaggio evangelico tant'è vero che poi martir lutero e calvino si sono separati se ne sono allontanati tutta l'europa centro settentrionale si è staccata e osservavo in questi video a seguito di questi video mi pervenivano messaggi intimidatori tipo tu sei già pronto tu serafino massoni sei già pronto per l'inferno da te emana odor di zolfo e vi di seguito e io ho fatto anche un video intitolato odor di zolfo però a un certo punto mi sono detto ma ma l'inferno c'è in tutte le religioni del mondo giudaico cristiano ma facciamo un po una ricerca ho fatto una ricerca e io che ho quasi 70 anni solo a quasi 70 anni vengo a sapere che il dio Yahweh il dio degli ebrei che che è il dio padre è il dio padre il dio dei cristiani e figlio è soltanto figlio del dio Yahweh il dio dei cristiani è un figlio e il dio degli ebrei è il padre e il padre c'ha più esperienza dei figli se non altro perché è campato di più vengo a sapere che il dio degli ebrei non c'era l'inferno non c'è neanche il paradiso ma neanche l'inferno cioè in pratica il dio degli ebrei è un dio concreto un dio saggio l'inferno e il paradiso li dà su questa terra se i suoi fedeli seguono i suoi comandamenti che sono sempre i dieci comandamenti di mosè e dio degli ebrei gli dà il paradiso su questa terra se invece i suoi fedeli non seguono i suoi comandamenti gli dà l'inferno su cui cioè gli fa star male però anche se il dio Yahweh dà l'inferno su questa terra i suoi fedeli e questo inferno non cioè li fa vivere male in miseria e di seguito però questo inferno dura quanto dura la vita di un individuo cioè non è l'inferno che dura per l'eternità non so se mi spiego ora il fatto è che la chiesa cattolica ma cristiana in genere e mi pare tranne i testimoni di Geo mi pare comunque la chiesa cattolica tanto per stare sul sicuro non l'ha mai negata non l'ha mai negata l'esistenza dell'inferno sì ci sono dei teologi del dissenso del dissenso ma quelli hanno poca voce in capitolo nelle parrocchie si continua a dire che l'inferno c'è cioè non è stato non è stato mai detto dalla chiesa cattolica no il diavolo non c'è l'inferno non c'è e l'inferno cattolico cristiano cattolico non è una bella cosa perché dura per l'eternità non è simpatico capito non è una cosa bella questo dio di bontà il dio cristiano che ti prepara per per i suoi e suoi fidoli perché fin di conti ci ha creato lui no siamo figli suoi e o se 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 magari non ti comporti tanto bene che poi bisogna vedere cosa significa non comportarsi tanto bene ti manda l'inferno ma non è un inferno che duri che so 10 15 20 no dura per l'eternità ora pensate un po voi come si fa a dire che dio cristiano è un dio buono ma andiamo ma andiamo ci vuole del coraggio e francamente questo sacerdote ha detto che che la questione del fatto che il dio degli ebrei non c'è l'inferno non era attirente all'argomento in discussione e deve essere molto imbarazzante questa è la grandezza del web vedete che si diffondono gli idee e le idee si diffondono così 4 e 4 8 si diffondono le idee veniamo a sapere che il dio degli ebrei e non ha non ha creato l'inferno che bello e io ci ho fatto pure un bel video bilingue tra l'altro è intitolato l'ottimo dio degli ebrei l'ottimo dio degli ebrei un meraviglioso dio degli ebrei non mi ricordo bene ecco questo messaggio per me è meraviglioso è meraviglioso questo 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 non so se arancia rossa è un uomo una donna non lo so non lo so non c'è scritto nel suo sito cioè questo ragazzo questa ragazza fa la domanda a sacerdote insegnanti di religione sacerdote se il nostro dio è più buono allora perché ha creato l'inferno mentre quello ebraico no il sacerdote si era imitato a dire che non era attivante all'argomento come giustifica questo comportamento ma come vuoi che lo giustifichi è ingiustificabile e tu l'hai preso la sprovvista e i sacerdote i sacerdote perché adesso si diffonde anche in italia modestamente tramite me e la consapevolezza che il dio degli ebrei l'inferno non ce l'ha e che quindi questo dio padre yahweh dio padre che tutti dicono un dio terribile alla fine alla fine dei conti risulta molto più buono del dio figlio va bene cari amici grazie arancia rossa per questo tuo bel messaggio grazie a tutti voi a tutti voi tanti saluti da serafino massoni grazie a tutti